benvenuti in un nuovo video oggi siamo qui per aprire la demo stop box di marzo è arrivata subito subito, considerando che oggi è il 17, ci arriva da qualche giorno sì, è la mercoledì, apriamo con la nostra bellissima nuvoletta, l'ha presa Antonella e l'ha sentito molto 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 leggero vediamo, mamma mia che professionalità, mi raccomando seguiteci su Vinted, questa cosa là dobbiamo dire perché stiamo pubblicando tantissime cose mi trovate come Giulia, Ambrosino, tutto attaccato, tutto in piccolo, seguiteci, seguiteci, seguiteci allora, prendo tutte queste brochure, c'è qualcosa che devi dare? guardate, no no no, ho visto solo qualcosa in mezzo ovviamente se ci sono un bel po' di prodotti vi facciamo un video recensione così che siamo tutte e due e conoscete entrambe le recensioni Oro Saiva Cruscoro, frolini integrali con zucchero grezzo di canna e una goccia di miele piccola piccola è la goccia? sì, ecco lì qua, sono da 400 grammi ci interessa piccola è la goccia di cartone e mezzo sugo biffi sugo ai funghi porcini questo lo fa a dire un sacco di pasta lì che ti sei conservata che dici di provarla? infatti questo è un bel po' di lavoro sugo ai funghi porcini, biffi che sugo? c'è anche il po' di è un misto buono, mi spira non ho capito perchè c'è stessa cosa per dividere non ho capito perchè c'è stessa cosa per dividere è perchè è finita la bocca di vetro frittella ma è uno non ho capito che cos'è ah sono gli stick i fili i fili on the fritz otto pezzi no no, si dividono sì, si dividono è me scomodissimo questa confezione vabbè ce ne sono due benissimo potremmo metterla a poco a vola comunque in questa box già vi dico che è tutto uguale sì, uguale l'altra glass Andrea Milano crema biologica con aceto balsamico di Modena vabbè questo non lo utilizziamo però con il basilico organico primo questo balsamico ah no, balsamico si vado a leggere ok, aceto balsamico alla fine che si utilizza questo è a crema e poi questo stava per non far cadere la birra ma non ho messo birra Peroni non filtrata processo integrale ok eccola è un po' scu... ah perché non è filtrata perché non è filtrata ok, bene è quasi finita proviamo da provare wow, guarda come sta scritto molto un po' misera questi per fare la box la cold box ci hanno arronzato a me del verde del verde fusilli proteici 100% farina di piselli verdi ma tu pure un altro calco di piselli benissimo questi sono i fusilli 250 grammi ok poi tonno buono per natura tonno al naturale con acqua di mare questo non lo provo manco morta perché a me il tono naturale mi dà i brividi comunque lo proveranno loro e poi è insuperabile vai ultime due cose eh ma ne abbiamo anche altre cose altre sì però posso dire una cosa dove stanno? stanno lì posso dire una cosa? è Pasqua lo ricordo Golia ha le erbe alpine vitamina C limone queste adesso le puoi portare al lavoro queste però alla fine sempre pure nella box scorsa mi pare che si è uscito o in quella precedente ancora no la scorsa non mi ricordo è questa non ci credo veramente è già uscita già ci è uscì una volta già ci è uscì è finita cioè comunque è Pasqua non so un uovetto una cosa tipo il nuovo uovetto Kinder non mi entusiasma niente no in questa box vabbè sicura che non c'è niente no ti avevo detto che era leggera non era proprio leggera più il cartone comprava tanto sapesse con la box allora prodotto del mese non c'è ma infatti perché ce ne avevo intanto infatti allora tonno 2,49 frittella 1,19 ah questi sono a fragola poi del verde pasta 100% legumi 1,99 sugo e funghi porcini biffi 3,49 aceto balsamico 6,99 oro saiva 2,99 cioccolato della lind 1,89 i crocchini mignon della roberto 1,50 birra peroni non filtrata 2,50 golia 1,79 cioè alla fine come costo che tu vai a spendere in cemento allora sì lo vai sempre a superare però alla fine aspettiamo qualcosina in più ovviamente vi ricordo se volete provare la prossima box e risparmiare qualcosina che poi volete provarlo una volta e poi annullare il servizio lo potete tranquillamente fare vi lascio il link che almeno invece di pagarla 16 euro la pagherete solo 9,99 compreso di spese di spedizione quindi alla fine ne vale la pena uno dice me ne prendo una e speriamo bene perché ci sono tanti mesi in cui ci sono box valide tipo come quella scorsa la scorsa vabbè andate a vedere il video precedente però ci sono state tante novità tipo quei fonzi edizione limitata però edizione limitata quindi vabbè può capitare esatto sì non è sempre così wow vabbè comunque aspettiamo noi quella di aprire ne speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao